Ragazzi, consegniamo i CF, consegniamo i CF e ritiriamo un linai che gli ho venduto un anno fa circa. E lui è la guida del raduno del lago di Garda e lui è la mascotte, che si chiama? Come si chiama? Ciao, ciao, ciao. Ciao Isi, che bello che sei, ciao. E guarda cosa l'ha fatto, l'ha aperto, l'ha fatto il cabrio. Sì, no, però è andato a prendere un metro e lo ha misurato. Lo portiamo in Sardegna stavolta, il tracker. Ehi, batuffolo, vieni, ciao, ciao batuffolo. Oh che bello, 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 mi piace. Ciao, fantastico. Ma c'è la pallina, devo vedere la zampa e poi è la pallina piccola. Dai, in bocca, dammelo a me, dammelo. Sei contento che arriva il tracker nuovo, eh? Dai, vieni su, vieni su, vieni qua, vieni qua. Vediamo se stai salire qua sopra, dai. Andiamo. Dai, su, su. Dai, vieni su. Non mi fai lì. Easy, andiamo, easy. Andiamo, easy. Ehi. Si, mi peghi più alto. È più alto questo? Eh sì.